La difficoltà del pittore è che quando la tua epoca è stato fatto tutto, la cosa bella, Michelangelo, quelle cose lì, sono irripetibili, anche se c'è della gente che è capace di farlo, uguale, identico, però non ha nessun valore, quindi devi sapere che quello è stato fatto e devi fare qualcosa che non è stato fatto. Allora, come dicevo prima, i soggetti tipo il water, le anatrevici, la carta igienica, tutti quegli oggetti lì non c'erano ai tempi degli altri pittori che mi hanno preceduto, quindi io sto dipingendo la mia epoca, lo spazzolino del cesso, le cose più umili che abbiamo in casa, io le trasformo in opere d'arte, perché quando ci mancano, tipo la carta igienica, quando ti manca te ne accorgi della sua importanza. Adesso che sono un po' conosciuto... Grazie.